All'indomani del passaggio di Elettra e il nubifraggio che si è abbattuto ieri sull'Irpinia, il comune di Solofra presenta ancora tutti i segni dell'irruenza della frana che ha attraversato le strade e trasportato fango e massi. Nella frazione di Santa Lucia, la più colpita dal nubifraggio, il sistema fognario è ancora in tilt. Dai tombini esplosi per l'abbondanza delle piogge irrompono i liquami che si lasciano dietro una scia scura e maleodorante. Ai lati delle strade non mancano cumuli di terra e fango ammassati dopo lunghe ore di lavoro da vigili del fuoco, carabinieri e associazioni di volontariato. Ancora una volta ad aggravare le conseguenze del maltempo e la fragilità di un territorio che sconta un gravissimo dissesto idrogeologico, autentica emergenza di cui sempre si parla senza mai intervenire. A Santa Lucia però i residenti sono particolarmente arrabbiati. La rottura degli argini del vallone che non hanno retto alla pressione dei massi e del fango provenienti dall'altura sovrastante ha fatto riversare acqua e pietre nel centro abitato. Già in passato, spiega qualcuno, si era verificata una situazione analoga anche se più circoscritta. Da allora però nulla è stato fatto e quanto è accaduto oggi dimostra come una semplice colata di fango possa creare danni fin troppo ingenti. Proseguendo per le vie della città della Concia la situazione appare appena migliore. Le strade sono ormai libere così come l'ingresso del raccordo autostradale che ieri era stato invaso dalla frana. Calma apparente dunque anche se il conto preciso dei danni ci sarà soltanto nei prossimi giorni. Il sindaco dal canto suo ha già inoltrato la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale e mentre dal cielo la pioggia continua a cadere preannunciando un autunno particolarmente delicato ci si chiede se non sia il caso di intervenire una volta per tutte sulla prevenzione anziché sull'emergenza.